Ciao a tutti ragazzi sono Candy e benvenuti in questo nuovissimo video nel mio canale Quest'oggi un caro amico youtuber mi ha spedito un pacco Riuscite a leggere il nome? In tanti mi avete consigliato di contattare Federic perché lui è un grande esperto del mondo pokemon E mi ha spedito una scatola proveniente proprio dal suo sito ufficiale Il Federic Store che troverete qua sotto in descrizione Se volete comprare anche voi delle carte pokemon, dei pacchetti, gadget, questo e quell'altro Mi raccomando andate nel suo sito e date un'occhiata perché è veramente ben fornito Io non so bene cosa mi ha spedito perché gli ho detto guarda fammi una sorpresa mandami quello che vuoi tu E quindi adesso apriremo questa scatola insieme per la prima volta Ah ci tengo a specificare che io sono appena prodato nel mondo pokemon quindi sono un novellino ancora non so nulla Quindi perdonatemi se dovessi fare degli errori piuttosto correggetemi qua sotto nei commenti Eccoci qua vediamo cosa mi ha mandato il buon Federic Oh mio dio cosa? Non ci posso credere Mi ha mandato ben due pacchi di bustine di voltaggio sfolgorante e di fiamme oscure Fiamme oscure se non lo sapete è il mio preferito Mi ha mandato il suo biglietto da visita del Federic Store come vi dicevo E una carta autografata Devo essere sincero ragazzi quasi mi dispiace dover aprire queste scatole perché sono bellissime Oh mio dio tutte queste? Ragazzi ma stiamo scherzando che figata Beh allora a questo punto apriamo anche l'altra scatola Io non ci voglio credere Federic sei un pazzo sei un pazzo Io gli ho proprio detto stupiscimi E guarda qua dovrebbero essere ben 32 pacchetti di carte pokemon Ah oggi ne odio aprire Oggi ho tantissima roba da aprire Diamoci una mossa Ne apriamo uno di questo e uno di questo Io spero che si veda abbastanza bene Apriamo il primo pacchetto Di fiamme oscure E vediamo cosa troviamo Tra l'altro mi avete dato tantissimi consigli sotto l'ultimo video Mi avete spiegato che non stavo sbagliando nulla E che quindi devo veramente fare uno Due Tre Quattro E poi metterle sotto le altre due Semplicemente in quel video ho avuto veramente molta molta sfortuna E non ho trovato nulla di buono Ecco perché non capivo cosa stessi trovando Ok Paras Bundle by Meltan Snubul Bonsweet Energia Ragazzi dovrò essere più veloce perché ne abbiamo tantissimi Staravia E Uh Milotic reverse Sembra bellissima E adesso vediamo la carta rara qual è Oh Oh Ok Sizer V Questa è la primissima carta V che trovo Beh questa volta mi sa che avrò molta più fortuna Che figata Prendo subito una sleeve E la mettiamo qua dentro Non si sa mai Beh apriamo un altro Oh cavolo Sembro tipo un bambino Il giorno di Natale Al solito Uno Due Tre Quattro Cerchiamo di andare direttamente nelle carte rare O direttamente in quelle che mi piacciono Questa è Mr. Mime e mi piace parecchio Energia Kabu Gotorita Fletchinder Ok Snoobull Reverse Niente di che E un Corviknight Holo Adesso apro la primissima bustina di voltaggio sfolgorante Vediamo cosa trovo Penso che il trick sia lo stesso Un Due Tre Quattro E poi sotto le ultime due Non ho mai aperto un pacchetto di voltaggio sfolgorante Ho soltanto aperto Fiamme Oscure io fino ad ora Quindi queste non le ho mai viste Però Uh Sabolai Reverse Bellina E poi l'ultima la carta rara è un Executor Non è neanche Holo Porca miseria ci metterò una vita a editare questo video Ariados Sembra bella Poi ci abbiamo Gorita come reverse E infine Kling Clang Apriamo un altro pacchetto di voltaggio sfolgorante Uh 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 Bella questa mi piace Charmeleon reverse Fighissima Questa sicuramente la metto nella sleeve E poi l'ultima carta è un Uh Una V A Ejiglash Beh questa è bella Che dite ragazzi Merita? È una bella carta? Lo so Sicuramente gli esperti di pokemon adesso saranno pensando Ma come mette un Charmeleon all'interno di una sleeve Sì perché è il mio pokemon preferito È una carta che mi piace Quindi io la voglio custodire Apriamo un altro Fiamme Oscure Cavolo Sarò qua due ore La nostra reverse è un Jigglypuff E adesso vediamo cosa trovo Uh Sono emozionato Oh mio dio Centi Scorch V Ok per un attimo ho letto Charizard Non so per quale motivo Centi Scorch V No Ragazzi Anche questa è rara Prendiamo subito una sleeve Perfetto Beh fino ad ora sto avendo molta molta più fortuna rispetto all'altro giorno Io voglio il Charizard Voglio trovare il Charizard qua dentro Un Charizard qualsiasi Mi va bene Semipour è la nostra reverse E Boom Eh insomma Voglio aprire un altro Fiamme Oscure I miei amici mi prendono in giro perché mi dicono che sto diventando dipendente dalle carte pokemon E hanno ragione Sentivo Torchic La nostra reverse è Torchic E infine Un Swanna Anche questa non holo Peccato Apriamone una di voltaggio sfolgorante che da un bel po' che non la apro Me lo sento Qua c'è il Pikachu ciccione Qua c'è il Pikachu ciccione ragazzi me lo sento Dammi il Pikachu Dammi il Pikachu Voglio il Pikachu Ok La nostra reverse è un'energia 3 2 1 E Uh Genesect Ok Genesect holo Non male Non mi fa impazzire come art Però Beh E' pur sempre una holo Io da bambino con tutte queste bustine probabilmente sarei morto di felicità Tornadus come reverse E Un Explode Raro Ok Mi spiace ragazzi ma quando vedete che Mi si abbassa praticamente l'hype Significa che la carta non mi piace Voglio essere abbastanza sincero con voi Se non mi piace l'artwork Anche se quella carta dovesse valere 200 euro Ma questa carta è totalmente rovinata Questa carta qua è rovinata Qual è? È la rara? 1 2 3 4 Non è la rara ok per fortuna Pensate se fosse stata la rara mamma mia Beh stavo dicendo se a me non piace l'artwork La carta può anche valere 3000 euro Io non sarò contento Execute reverse e ora un bel Uh Zekrom Holo Bella Molto molto bella E non sembra essere rovinata per fortuna Andiamo con un altro bellissimo fiamme oscure 1 2 3 4 1 2 3 Ok Heatran è la nostra carta holo Ragazzi me lo sento Qua dentro c'è il Charizard Se ci prendo Dovete assumermi come Apritore di Boost e Pokémon professionista E adesso vediamo cosa riusciamo a trovare Dai un bel Charizard Non farmi fare brutta figura Andiamo Merip Pensier Energia Motorita Fletchhinder Energia Fibas come reverse E infine un Digger's Buy Ok non c'era il Charizard Riuscirò mai a trovare Quello certolone gigante Con le sembianze di un drago Starly E infine Oh VKV V Abbiamo trovato un'altra carta V E anche tu mia cara Entrerai all'interno Della tua sleeve Escavalier come reverse E infine un Mr. Rhyme Che non ce l'avevo Quindi ok Mi piace Apriamo un altro voltaggio Sfolgorante Mamma mia ragazzi Sono felice Come un bambino a Natale Sono sicuro di averlo già detto Ragazzi sono contentissimo Avevo proprio tantissima voglia Di aprire Delle bustine di carte Pokémon Energia Cramorant Kakuna Sablai Bito Bitor Zolelmo E infine un Ninjask E' arrivato il momento E' arrivato il momento Me lo sento Qua c'è un Charizard Qui c'è un Charizard Miei cari ragazzi Con Baskin Bello Rose Tower Reverse E infine un Milotic Hollow Ok Di questo ce avevo la reverse Bella Al momento ragazzi Abbiamo trovato Solo Tra virgolette Quattro carte V Come vedete ragazzi I pacchetti si stanno dimezzando Lunatone Ampharos Reverse E' un Grident Raro Ok Questo è un altro Fiamme Oscure Vediamo Teddy Ursa Trapinch Vanillite Golet Pansage Energia Dartrix Distintivo Turbo Kabu Staravia Non ne posso più di Staravia E Oh Vicalt Un'altra carta rara Da aggiungere Alla nostra collezione Non so neanche come si legge Diglett Tauros Energia Simipower Simisage Possile raro Mari Ragazzi Intravedo Oh mio dio Intravedo qualcosa Non so se si vede Ma intravedo qualcosa di raro 3 2 1 Oh mio dio Sysor Sysor V Sysor V Sysor V Max Questa è la mia primissima carta V Max C'avevamo Sysor V E ora c'ho il V Max Chissà quanto vale La mettiamo qua dentro E la si tiene qua Buona buonina Ma ragazzi Fino ad ora le carte del Fedrick Store Sono state molto molto fortunate Energia Ursa Ring Vecchio PC Bonesweet E Uuuuh Upa Upa lupa Upa Olo Rookie D Teddy Ursa Energia Fluffy Shinotic O Shinotic Staravia L'odio Staravia Uuuuh Melmetal Reverse Bella questa arte Mi piace Oh 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 Slowbro V Questa penso sia la carta più bella che ho trovato fino ad ora E Slowbro Tu entri qua dentro Sims Age Fossile Raro Trombetta Yell Reverse E Oh mio Dio di nuovo Slowbro V Ne ho due Non ci posso credere Adesso ne ho due uguali Sol Rock Energia potente Martello della tenacia Uuuuh bella questa Arctovish Reverse E infine Oh oh Un Hyper Ho trovato la mia prima Hyper Premura della leva Pokemon Questa è la mia primissima Hyper Devo cercare di non rovinarla Entra qua dentro Perfetto Non ci posso credere Chissà quest'Hyper quanto vale Ah Quindi i pacchetti migliori si nascondevano alla fine eh Resta l'ultimo pacchetto di Fiamme Oscure È una coincidenza il fatto che questo pacchetto abbia Charizard come grafica Non lo so Ma adesso lo apriremo Ho ancora fiducia nel Charizard Uno due tre Quattro Poi sotto Skitty Clink Grimer Mr. Mime Electrike Energia Corvis Quire Pupitar Combuskin Spinar Creverse E uuuuh Ok 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 È una holo Agron holo Beh non sarà un Charizard Ma è pur sempre una holo Ragazzi io non ho mai avuto così tante carte Pokemon in tutta la mia vita E guardate quante rare sono riuscito a trovare Ecco qui le nostre rare Bene ragazzi direi che ho aperto tantissimi pacchetti e ho trovato tante carte rare Ho ancora un bel po' di pacchetti di voltaggio sfolgorante da aprire Quindi mi raccomando lasciate tanti bei mi piace Se questo video dovesse superare i 5000 mi piace farò un altro pack opening Dove apro queste altre bustine che credo siano una ventina Dal vostro Candy è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao